oggi è un giorno speciale per il club napoli marigliano che dopo tanti traguardi ricchi naturalmente di successi di gioie e soprattutto di emozioni azzurre giunge ai suoi 50 anni di vita dunque auguri doppia il club napoli marigliano e ai suoi sostenitori da quelli storici a quelli più giovani e attraverso questo compleanno speciale questo compleanno importante volgiamo però anche uno sguardo al futuro che sia uno sguardo ricco di speranza non solo per il calcio napoli e contestualmente volgiamo uno sguardo al passato meglio volgiamo uno sguardo al cielo nel ricordo del grande immenso ed eterno dieci diego armando maradona tra l'altro il club napoli marigliano detiene un primato assoluto ossia è stato il primo club napoli fondato nel 1970 e a oggi è ancora un grande punto di riferimento per tanti supporter partenopei provenienti anche dalle zone vinitrofe naturalmente per me ma gioia un onore essere la madrina la testimonial di questo evento che come ben sapete causa pandemia non può oggi essere festeggiato al meglio ma che festeggeremo quanto prima sicuramente tutti insieme e lo faremo sicuramente nella sede storica del club mariglianese nel frattempo io vi invio i miei più grandi auguri i miei più calorosi ed azzurri auguri per questo compleanno importante ma i miei auguri naturalmente si estendono anche al natale che sia un natale pieno d'amore ricco di gioia di pace e di serenità nonostante tutto sicuramente è per noi questo natale un natale particolare tra virgolette atipico ma anche in questo natale dobbiamo ricordare di essere assolutamente felici e come sempre forza napoli